Vedi che parodi arriva? Arrivato, è arrivato. Sì, sì, sì. L'ho visto, l'ho visto. No, no, Ibaldi ha avvisato gli arbitri. Abbiamo dei posti qua, se vuole. Abbiamo dei posti da dirigente, se vuole, senza problemi. E volentieri anche. E cosa pensa che stiamo facendo? Facciamo il minuto di silenzio, dai. In onore di Andrea Bosciola. Grazie. 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 a posto fiscale l'arbitro a posto 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 a posto